salve a tutti madame ammesseri benvenuti a una nuova puntata sul canale spero state bene sia tutto a posto come ogni martedì e venerdì trovate un nuovo video sul canale e mi vedete anche meglio la luce divina la luce elettrica il video di oggi come da consuetudine del martedì è un video sulle vostre domande del cad le mie risposte de me per ogni commento che leggo ci saranno le domande che ho fatto io vuoi ovvero sulla vostra wish list make up cosa c'è se ve lo siete persi vi lascio l'ultimo domande del ca e le vostre domande a cui io risponderò di volta in volta quindi con l'aiuto dei computer come sempre passiamo a leggere i commenti partiamo da renzi la strega che tra l'altro è uno dei miei cartoni preferiti e renzi mi segue da tantissimo tempo renzi mi chiede la sua risposta de me alla sua wish list e la mia è proprio una risposta de me la mia beauty wish list e nessuna beauty wish list mi sono ripulita ebbene sì quando mi capita che mi capita di desiderare una cosa me la compro e fan sub che anche questo è giusto se uno a metodo e abbastanza disciplina perché no oppure se se lo può permettere di spendere chi siamo noi per giudicare poi la domanda del ca è la seguente la tua formazione musicale dall'adolescenza oggi cosa è cambiato e cosa invece è rimasto nel corso degli anni genere musicale cantante o gruppo preferito e qual è la canzone della tua infanzia adolescenziale della tua infanzia adolescenza che ascoltata adesso che sia adulta ti in ancora forti emozioni ciao bella ciao bella anche te allora sono tantissime domande e vediamo di rispondere vediamo di avvicinarci anche un poco ma sì così vedete bene il faccione allora la tua formazione musicale la mia formazione musicale è un po strana perché io sono una persona che tendenzialmente non ha tanta pazienza questo è il bottoncino per far accendere e spegnere la camera ma a voi questo non gli interessa dicevamo la mia formazione musicale molto sui generis perché io non ho pazienza nell'ascoltare band nuove fare cose nuove quindi è stata un po un misto di vari fattori sicuramente c'è mi ha influenzato tanto mamma perché mamma ascolta tantissima musica papà mi ha influenzato con i film mamma con la musica e quindi tutta la musica degli anni 60 degli anni 50 io ascolto proprio i cascioni come parlami d'amore mario a me piace e quindi questa è un attimo la formazione dell'infanzia la formazione adolescenziale è stata soprattutto gruppi rock il rock è il mio genere preferito anche se ho gusti abbastanza eclettici mi piace anche tantissimo il reggae tantissimo l'opera però se dovessi prendere uno in uno soltanto genere musicale per tutta la vita forever and never fin quando non schiatto e rock e cosa è cambiato e cosa è rimasto nel corso degli anni cantante o gruppo preferito non sono cambiati tantissimo nel senso che tra i miei gruppi preferiti ci sono sicuramente red o chili peppers nonostante non siano i migliori mi piacciono tantissimo sono i rolli stones sono fan tanto degli dei dei di strokes mi piacciono tantissimo perché fanno le canzoni breve col progressivo un poco di di problemi però sono anche molto fiera soprattutto di aver scoperto da sola nel senso che ho tanti amici che ascoltavano questi gruppi però me li sono andata a ascoltare nel corso del tempo da sola mi medesima e sono gli smith che consiglio a tutti dovete avere una cultura sugli smith e modi si bellissime e poi un po depressivo ma ti aiuta e poi i joy division soprattutto dopo la visione del film controllo ci sono arrivata tardi ma ci sono arrivata adesso sto un attimo rivedendo i miei generi e i miei gusti musicali e sto cercando di approcciare un po canne cave però ovviamente la mia cultura musicale ha ancora tantissimi lacune e quindi i rolli stones ve li ho detti penso di sì rolli stones mi sono piaciuti tantissimissimissimo e mi piacciono ancora prima li ascoltavo di più però sono cazzutissimi andiamo avanti non sono mai stata fan dei beatles però li apprezzo li di bill e di b e qual è la canzone della tua infanzia adolescenza che ascoltato adesso che sia adulta ti scadena forti emozioni a tutti gli amanti della musica tappatevi le orecchie ma sicuramente pensiero dei po perché mi piace mi piace tantissimo spero di aver risposto a tutto e ciao bella ciao renzi poi veniamo alla nostra cristina che c'è sempre nelle nostre disquisizioni allora risposta di me nella sua vicilessa abbiamo la glen palette di natasha denona mi sono nato convinta che dopo due mi manca la terza e vabbè le convenzioni che ce la facciamo tutta la glen io l'ho vista dal vivo è una bella palette soprattutto per i cool tono per i toni freddi poi il blush duo melt e la palette for 20 e mi piacerebbe anche il calendario dell'avvento di calc beauty ma penso che per quest'anno salterò la tradizione apporterò per quello di felio nick come l'anno scorso io calendari dell'avvento me ne farò uno da sola poi lo vedrete ci vediamo quando volete che vi faccio vedere il calendario dell'avvento a novembre a dicembre perché ci saranno delle soddisfazioni proprio grandi grandi quindi questo progetto un po spoiler che mi direte voi poi nella domanda del caso e potessi scegliere un solo luogo dove vivere per tutta la vita facendo un solo lavoro e mangiando un solo cibo una tristezza insomma quali salibbero e sarebbero perché siamo tutti un po cinesi allora sicuramente mi piacerebbe tantissimo vivere a istanbul però se stare solo in un luogo implicherebbe non viaggiare penso che scegliere napoli nonostante il rapporto conflittuale che ho con la mia città per me la città più bella del mondo simi napoli paesa ole ole tutti gli strategie tutti proprio gli stereotipi quindi implicato che io non mi possa muovere non possa andare a nessuna parte sarebbe napoli se invece mi posso muovere istanbul vivrei a istanbul tutta la vita e poi andrei avanti indietro per napoli tutto però sono luogo napoli scelgo napoli che non sono disertrice della patria anche se mi mancherebbe istanbul poi facendo un solo lavoro un lavoro specifico sarebbe un lavoro dove io possa progredire ma in maniera creativa quindi potrebbe essere anche un lavoro d'ufficio che mi farebbe un attimo venire la morte interiore perché io sono una persona che ogni quattro cinque anni se deve muovere sono molto amo molto la stabilità amo molto la sicurezza ma un certo punto me me impazzisco me impazzisco da sola però quindi potrebbe essere un lavoro che implica una tantissimo la parte creativa e non lo so forse sarebbe una professione un freelancing di qualche cosa non lo so però qualche cosa dove la creatività non mancherebbe mai proprio per non stancarmi e poi mangiare un solo cibo questa è la parte più facile pollo allo spiedo chi mi conosce lo sa il pollo allo spiedo è proprio una tradizione di tutti i miei compleanni una tradizione di quando torno a napoli ancora più da mozzarella non vi scandalizzate ancora prima della pizza il pollo allo spiedo chi mi ama lo sa grazie per le due domande risposte ciao christy poi vediamo un attimo allora bgm che mi dice mamma mia ho fatto una scoperta mi sono fermata a pensare e non ho nulla in wish list dopo lungo periodo di bulimia cosmetica interrotto gli acquisti se vedi qualcosa di nuovo valuto per una settimana se per acquistare o meno l'ultimo acquisto fatti il lockdown napoletto occhi e non ne comprava da almeno un paio d'anni mi dedico più alla skin care ci trovo più soddisfazione ed è la palette platinum di nabla che le ha comprato un punto di vista molto utile niente per forza in questa vita non dovete comprare per forza quelle che vi dicono non è per forza comprate quello che vi serve ma soprattutto secondo le vostre capacità ciao poi in questo è un attimo i consigli dei baci per rugina poi laura mi chiede vediamo un attimo ah no non mi chiede niente ti saluto laura giusto no c'è nella mia wish list no c'era una cosa aspetta laura nella mia wish list mi capposa c'è la palette della denona di cui dicono meraviglie non so quale ma mi piacerebbe trovarne una e poi lei parla anche della melt che vi ho fatto vedere ultimamente della denona ti posso dire che confermo le qualità delle degli ombretti de natasha denona meritano meritano tantissimo quindi se non ti senti di fare un investimento un investimento grande scegli nelle sue palette che costano se non mi sbaglio in italia 65 70 euro quelle come la love o la glam appunto che è stata da poco lanciata adesso l'ho lanciato pure la con la collezione holiday delle feste io ti consiglio di scegliere la storia colori ovvero i colori che più ti piacciono che usi di più investire su quegli aspetti se cura il i percivoli percentuali di sconto e te la compri perché a livello di qualità dei colori come zippat pat mcgrat badashona non ti lascia a piedi ovviamente ci sta sempre il colore che nella palette tefalla e ti fa rimanere un po male anche nella lila c'è il colore 2 per colmo che a me non piace non mi piace proprio però di per sé la qualità c'è poi passiamo al video del layering delle fragranze che vi lascio sempre qui nella sezione schede dove appunto tra le varie nella mia dissertazione delle fragranze e vi spiegavo appunto come si si stratificano solitamente la fragranza pinte per farvele insordone se avete verso la puntata precedente cattivissime siete mettete prima il colore e si ciao la fragranza più intensa come base e al di sopra quella più fresca però abbiamo alcuni punti in merito ovvero tiziana mi chiede o due domande lei a un creed spring flower che ancora non hanno usato l'ho visto ce l'abbiamo ma non 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 l'ho ancora hanno usato alla frutta che odio cosa possa mettere per smorzare il dolce del melone che sento io ti direi anche se non l'hanno usato ancora qualcosa contrasto soprattutto se ti piacciono i legnosi fai prove con fragranze che smorzino la dolcezza del melone e poi solitamente il melone si è persistente però comunque dovrebbe mediamente durare non tantissimo quindi qualcosa di amaro o qualcosa di legnoso come base non la vaniglia perché ti fa uscire ancora di più il melone quindi prova sul braccio e vedi come interagiscono i due poi mi chiede il mio profumo elixir de mervelle hermes anche il suo deodorante si può sformare al parfum ma certamente bacio tiziana si anche i prodotti corpo le creme i deodoranti possono sommarsi sempre alla stratificazione della fragranza quindi abbiamo come sempre va come base di tutto se ce l'avete il più parfum polio de parfum poi lo detto lette poi le varie essenze acque profumate o profumi no mi mi appare una visione sul cellulare no non volevo sapere i limite cellulare perché interagisci con noi e poi se avete prodotti corpo vanno diversi primi prodotti corpo e poi tutti i liquidi sopra poi è lì mi chiede ho una domanda stupida nessuna domanda è stupida attenzione sto facendo le prove ma tra la prima e seconda fragranza che applico devo farle asciugare spruzzo subito io ti direi non c'è una regola fissa leggermente evaporare la fragranza più intensa perché non la vai a coprire totalmente con la fragranza più fresca però possono anche non asciugarsi tra di loro e tempo di qualche secondo poi c'è la cristel che io adoro sempre a tutti vi è piaciuto il nuovo sfondo e quindi lo sfondo rimane così e poi abbiamo la gabriella la gabriellone che mi voglio tanto bene dall'argentina con furore allora lei è arrivata a quota 97 profumi quindi mi coglioni coi contro cazzi bene la quarantena eterna in argentina mi ha fatto perdere un po la mano vorrei capire meglio questa cosa del layering delle famiglie affattive di solito quando mischio sono sempre profumi della stessa categoria e quindi mi so mi sa che faccio cazzate inutili grazie per lo sfondo per il consiglio sullo sfondo no non stai facendo cazzate inutili perché comunque se sono famiglie affattive simili fai la cosa tono su tono immagina appunto con i vestiti non è una cazzata vestirsi tutte le tonalità del beige anzi perché si costumissano sempre le fragranze quando appunto si mischiano quindi quando vi dicevo prima sia tono su tono a contrasto va tutto bene sempre che rispecchi le vostra gratitudine olfattiva io penso che vi ho detto tutto e inoltre la domanda della settimana l'avrei dovuto fare all'inizio ma mi sono scordata scrivetemi il vostro piatto preferito qual è ma sempre non dimenticando le vostre domande del ca per me e quindi la vostra domanda del ca della settimana è qual è il vostro pranzo piatto no pranzo qual è il vostro pranzo preferito il vostro piatto preferito e inoltre fatemi domande un poco in generale anche non concernenti la mia persona perché non è che su alvezza a non dirvi le cose io vi dico un po tutto vi faccio un poco da da quelle persone che vi dicono i pareri non richiesti chiedetemi pareri non richiesti detto questo io vi saluto vi bacio e come sempre se volete supportare condividete piacete fate quello che il vostro cuore con la q desidera noi ci vediamo alla prossima un bacio e ciao ciao state bene ciao